Siamo con Graziano Lepore, esponente sempre della lista di laboratorio, a cui chiediamo un commento a caldo della schiacciante vittoria, se così si può dire, di Michele Abaticchio su Paolo Intini. Beh, è stata una vittoria che volevamo con tutte le nostre forze e le nostre energie, e abbiamo dato tutti quanti, l'intera coalizione e tutti i componenti di ogni lista il massimo che potevamo. Speravamo, avevamo sentore che ce la si poteva fare, ma nonostante questo siamo stati tesi sino all'ultimo momento. Sicuramente il risultato premia un atteggiamento di estrema chiarezza nei confronti di tutti gli elettori, li ringraziamo tutti quanti, chiediamo scusa a quanti di loro hanno deciso di non andare a voto, perché probabilmente la nostra responsabilità è da rivedersi nel fatto che non siamo stati capaci fino in fondo di spiegare le ragioni di un sostegno così forte nei confronti di Michele Abaticchio.